Il Napoli si sta avviando a vincere uno scudetto, sta facendo un campionato straordinario e sta meritatamente vincendo. Parole e musica da parte di Massimiliano Allegri, come non condividere questa analisi in cui va a riassumere un pochettino quella che è stata la Serie A corrente, quindi 2022-2023, un boccone amaro da digerire un po' per tutti i tifosi in Italia, juventini, interisti, milanisti e chi più ne ha più ne metta che dovranno consolarsi con l'essere invece arrivati in fondo a diverse competizioni europee. La Juventus purtroppo in Europa League e non in Champions League. Vedremo se avremo almeno una squadra in Italia ad alzare un trofeo europeo dopo la Roma di Mourinho l'anno scorso, Inter o Milan dato che una delle due arriverà in finale di Champions, Juventus o Roma che potrebbero trovarsi in finale d'Europa League oppure la Fiorentina che sembra un'ottima candidata a poter alzare ora invece la Conference, quindi sicuramente il calcio italiano che si riscatta in questo finale di stagione con il Napoli invece che appunto è stato eliminato dalla Champions e vorrà cercare di vincere lo scudetto il prima possibile. E quindi andiamo ad analizzare le parole di Massimiliano Allegri alla vigilia della sfida tra Juventus e Napoli. Piccolo punto, dato che stamattina si è discusso di questa cosa su Twitter, ho visto che i prezzi dei biglietti rimanenti sul sito della Juventus sono veramente molto alti. Su Twitter qualcuno consigliava l'iscrizione a diversi Juventus Club in giro per l'Italia oppure direttamente sul sito della Juventus fare il tesseramento per ottenere degli sconti durante l'anno, quindi se siete interessati ad andare allo stadio magari il prossimo anno utilizzate una di queste due strade perché vedevo che addirittura ci sono delle tribune in questo momento che partono da 200 e rotti euro, arrivano fino a 400 e sono prezzi decisamente fuori portata per qualsiasi tipo di tifoso, credo, per andare a vedere 90 minuti di calcio per una partita che non vale lo scudetto, una partita che non vale una qualificazione europea e non vale un trofeo, quindi in alternativa se volete andare allo stadio l'anno prossimo utilizzate una di queste due strade. Piccolo tip, dato che è stato un consiglio che ho letto tanto oggi su Twitter. Allegri continua e dice È una squadra forte, sono usciti dalla Champions dopo una buona partita e vorranno fare più punti possibili per lo scudetto. Noi nelle ultime otto invece dobbiamo fare più punti possibili per arrivare nelle prime quattro e arrivare al secondo posto. Quindi l'obiettivo dichiarato della Juventus in campionato è il secondo posto. Dopo aver riottenuto, momentaneamente, ma riottenuto i 15 punti che erano stati sottratti con la penalizzazione, Allegri, punto al dito, secondo posto. Bisogna arrivare lì e sono d'accordo perché la Juventus dovrebbe cercare di partecipare per vincere o provare a vincere lo scudetto. In questo momento non ci si può fare niente e dato che nelle ultime partite in Serie A abbiamo lasciato troppi punti per strada, domani è una partita che in teoria difficilmente riuscirà a vincere, invece la devi approcciare con un'idea abbastanza aggressiva. Devi provare a portare a casa tre punti perché se l'obiettivo è quello lì, allora dato che mancano così poche partite, anche una partita del genere devi provare a vincerla. Dico che non sarà facile, a maggior ragione perché veniamo dopo una partita europea, quindi il ritorno dei quarti di finale d'Europa League e tra qualche giorno, due o tre giorni, si giocherà invece la semifinale di ritorno con l'Inter che ieri si è vista respinta al ricorso su Lukaku che non sarà della partita confermata la squalifica e quindi sicuramente più che il campionato l'idea va a cercare di raggiungere la finale di Coppa Italia, dato che siamo ben lontani dall'avere un vantaggio. È finita 1-1 la partita d'andata, la Juventus non ha quindi a disposizione due risultati su tre, bisognerà vincere a San Siro, non sarà per niente facile. Quindi la domanda che vi faccio è, secondo voi, l'allenatore della Juventus come andrà a preparare questa partita? Ho già iniziato a vedere un pochino di formazioni in giro, alcune probabili formazioni, poi ne parleremo meglio magari una giornata di domani, danno Bonucci come titolare al centro della difesa. Questa cosa un po' mi spaventa dopo che non abbiamo visto Bonucci per tanto e le ultime volte che ne avevamo visto non era assolutamente una garanzia. E infatti Allegri continua e dice, domani mattina non ci saranno i convocati perché devo vedere Bremer, che in realtà non ha niente, quindi tranquillizza un pochino l'ambiente, però dice, devo vedere come va, devo valutare, quindi mi prendo qualche minuto in più magari per far uscire i convocati. Sia Rugani che Bonucci comunque stanno bene, eventualmente giocherà uno dei due. E anche qua, se Bremer ha qualche problema, allora forse è meglio non rischiarlo nella partita di domani, tenerselo per la semifinale di ritorno con l'Inter. Interrogativi difficili perché entriamo nel momento clou della stagione, quindi le cose adesso devono andare bene, non c'è più margine di manovra, non c'è più spazio. Se si sbaglia adesso si sbaglia, punto, a capo, lettera maiuscola, ci si ripensa eventualmente poi l'anno prossimo. Sarà a disposizione anche De Sciglio, poi devo vedere gli altri recuperati. Quindi la Juventus che inizia a riassemblarsi un pochettino con tutti i giocatori o quasi a disposizione, anche se qualcuno ancora non è al 100% dal punto di vista fisico, e quindi ci saranno delle scelte da fare anche e soprattutto in ottica semifinale di Coppa Italia, quindi in ottica turnover, che sai, far turnover in casa contro una squadra come il Napoli significa anche suicidio, però la coperta è corta, perché i giocatori ci sono, ma il fisico non è perfetto per tutti. Lo sappiamo, l'abbiamo visto, e anche quelli che solitamente stavano bene stanno vivendo un calo di prestazioni fisiche. Non proprio benissimo. Andiamo avanti. Abbiamo dovuto risettare tutto, dice Allegri, fare uno sforzo mentale per riadattarsi alla classifica del momento e risalire pian piano con la china. Nel frattempo c'erano anche Europa League e Coppa Italia, e da qui alla fine però bisognerà fare meglio per raggiungere le finali di Coppa, dice Allegri. Il film qua si è fatto bene, ma adesso bisogna fare meglio. Secondo me dalla penalizzazione in poi sì, si è fatto bene, ma non dal punto di vista di come mi sono piaciute le partite, perché quest'anno purtroppo è un tasto abbastanza dolente tra quest'anno e l'anno scorso, di partite davvero belle. Possiamo contarle sulla punta delle dita, sulle dita di una mano, forse due, se proprio vogliamo star larghi. Ma la risposta mentale che ha dato il gruppo, anche l'altro giorno parlavo di cuore, questa squadra ha cuore, questa squadra si fa volere bene per questa cosa qui. E a livello comunicativo invece da parte dell'allenatore mi sono trovato tantissime volte a dire in questo momento qui Allegri mi sta piacendo decisamente di più rispetto a prima. Quindi bisogna capire di cosa si sta parlando, perché secondo me è sempre meglio spendere due parole in più per cercare di non essere poi buttati hai detto questo o quell'altro? No, voglio spiegare perché dico certe cose, però adesso bisogna far parlare il campo, perché per raggiungere la finale di Europa League, raggiungere la finale di Coppa Italia, raggiungere il secondo posto in campionato, non c'è solo il cuore, non c'è solo il parlare, c'è da fare, è la Juventus che abbiamo visto in aprile, fino adesso con vittoria con lo Sporting Lisbona l'andata e vittoria con l'Elas Verona per 1-0, le uniche due vittorie vinte per 1-0, con due prestazioni anche abbastanza brutte, entrambe le partite in casa, ecco in aprile abbiamo vinto solo quelle, perché poi abbiamo pareggiato con l'Inter, pareggiato con lo Sporting, perso con l'Alessio e perso col Sassuolo. È un aprile brutto, fino adesso, della Juventus, io anche ieri vi dicevo non ho idea di come abbiamo fatto a qualificarci con lo Sporting, praticamente non avendo mai un'azione pulita per tirare in porta, tirando in porta pochissima tra andate e ritorno. Ecco, Napoli, Inter, Bologna, le ultime tre partite di aprile, non basta parlare, non c'è più la penalizzazione, il cuore, quello che volete, però adesso è il campo, adesso bisogna che parli il campo, e se non parli il campo da qui alla fine significa che manderemo giù dei bocconi amari. Avanti, ragazzi, bisogna andare. Allegri dice, bisogna pure cercare di andare a prendere appunto l'Alessio al secondo posto. Obiettivi ambiziosi nel nostro piccolo, perché, ripeto, la Juve deve provare a vincere lo scudetto, la Juventus deve provare ad andare avanti in Champions, la Coppa Italia poi deve essere un contorno, ci stiamo, tra virgolette, accontentando degli obiettivi di riserva, però li voglio raggiungere, e in questo momento non so nemmeno se siamo in grado di andarle a raggiungere. Quindi, miglioramento, adesso, essenziale, se no, lacrime amare. Chiesa ha giocato 90 minuti giovedì, i minuti sicuramente li ha, bisogna vedere come ha recuperato. Un po' il discorso che vi facevo prima, non è solo avere i giocatori a disposizione, è come ce li hai, e sicuramente ci sono dei giocatori che devono recuperare anche dal punto di vista fisico. Fabiana della Valle fa un buon intervento, e dice, nell'ultime dieci partite, su 16 gol la Juventus, ne ha segnati soltanto quattro con gli attaccanti. Ora non ho verificato se i numeri sono esattamente questi. Fabiana dice, da Salernitana in poi. Dovessero essere confermati, beh, sono numeri preoccupanti. Intanto perché la Juventus in dieci partite ha fatto 16 gol, che è pochissimo, veramente pochissimo, e soltanto quattro degli attaccanti, numeri che urlano vendetta. E Allegri dice, è un momento dove gli attaccanti hanno un pochino più difficoltà, e sono meno fortunati nel fare gol. Beh, io qua non sono assolutamente d'accordo. Non voglio perdere altro tempo per spiegare perché non sono d'accordo. L'ho spiegato mille volte all'interno delle pagelle, mille volte all'interno, quindi dei video che trovate sul canale. Però questa è una frase che non mi trova per niente d'accordo. Non è un discorso di difficoltà momentanea, non è un discorso di fortuna, è un discorso che la Juve è cambiata rispetto a quando andava effettivamente meglio a febbraio. Abbiamo attaccanti molto bravi. Nell'arco della stagione capitano questi momenti. Questo assolutamente sì, ma secondo me è un discorso differente. Torneranno sicuramente a far gol nell'arco della stagione. Poi chiedono a Allegri, un giocatore che toglierebbe al Napoli? Allegri dice, giocatori al Napoli non devo toglierli, comunque hanno una rosa forte. Domani al Napoli mancano due o tre giocatori, se ne sono già tolti da soli. E poi gli chiedono, ma c'è voglia di riscatto rispetto alla sconfitta dell'andata? Allegri dice, no, non c'è voglia di riscatto, ma solo voglia di battere in casa la capolista che ha vinto le ultime sette trasferte su sette. Anche questo dato non l'ho confermato, non l'ho controllato, però penso che sia abbastanza vero, nel senso che il Napoli mi sembra una squadra che può assolutamente vincere le ultime sette su sette in serie in trasferta. A volte capita di perdere partite che non meritavi di perdere, però alla fine quel che conta sono i risultati. Qua non ho capito a quale partita facesse riferimento. Mi può venire in mente Roma-Juventus, che hai perso ma non meritavi assolutamente di perdere. Spero non facesse riferimento alla partita d'andata dove abbiamo perso 5-1 a Napoli, perché effettivamente meritavamo di perderla. E così come a volte capita di riperdere partite che non meriti di riperdere, beh, la qualificazione in Europa League a volte vinci partite o comunque passi turni che probabilmente non meritavi completamente di passare, o almeno con così tanta tranquillità, tra virgolette, nel senso che secondo me, tra andate e ritorno almeno un pareggio, lo sport in Lisbona se lo meritava. Ma meglio per noi. Meglissimo per noi. Speriamo di non aver esaurito anche questa piccola dose di fortuna, che comunque nel calcio è essenziale. Basta vedere i sorteggi europei degli italiani in Champions quest'anno. Il Napoli in Italia ha ucciso il campionato tenendo un rullino di marcia impressionante. E questo è assolutamente vero. Veramente il Napoli sta facendo un campionato allucinante. Ormai mancano 8 partite di campionato. Due d'Europa League e una di Coppa Italia sicure, dice Allegri. Quindi 11 partite sicure da qui alla fine. Bisogna essere bravi a riempire maggio con tutte le finali per giocare 58 partite, il massimo possibile in stagione. L'importante è che stiano tutti bene. Posso girare un po' i ragazzi con 5 sostituzioni. L'importante è sapere che giochiamo una partita molto difficile e sarebbe importante portare a casa una vittoria. Importante qua? Secondo me è in primis. E poi ovviamente è importante, come dicevamo prima, anche per quei tifosi che magari vanno allo stadio e spendono cifre importanti per andare a vedere una partita che, ripeto, purtroppo quest'anno non può essere una partita decisiva per il campionato, per arrivare a vincere qualcosa. Però noi, nonostante i 15 punti che ci hanno ridato, in Champions non ci siamo ancora. Allegri parla di obiettivi e quindi sarebbe utile riuscire a muovere la classifica con qualche punto. E' ovvio che pensare di farli col Napoli non è facile, però ne hai lasciati troppo indietro nelle ultime partite. Ricordiamo domenica scorsa a Reggio Emilia che erano tre punti che avrebbero fatto, non comodo, ma di più. Non so se è regolare o no questo campionato, so solo che noi abbiamo fatto il possibile in campionato dopo la penalizzazione. Quel che è fatto è fatto, quel che è successo è successo, ora dobbiamo andare il nostro massimo da qui al 4 di giugno. Eh, manca poco, eh. Manca 40 giorni, praticamente. In questi 40 giorni decidiamo tutto. Noi, come sempre, i punti vanno fatti sul campo perché gli chiedono, ma non è che quest'incertezza adesso ve li andati ma poi ve li tolgono forse, chissà che cosa succede. Le grigioni, come sempre, i punti vanno fatti sul campo. E questa cosa rimarrà per sempre una grandissima verità e qua sono completamente d'accordo col mister. Ci hanno restituito quei punti. Da qui alla fine non sarà facile, dobbiamo farne altri per raggiungere l'obiettivo di giocare la Champions l'anno prossimo. Non dimentichiamoci che questo è l'obiettivo principale della stagione in Serie A, raggiungere la Champions League. Poi, se c'è la possibilità di farlo al secondo posto, alle spalle del Napoli, cercando di essere quanto più vicini anche a livello di punti, beh, questo sarebbe ovviamente il massimo, però bisogna provare anche a vincere dei trofei e quindi pensare che la Juve possa vincere le prossime 11, 12 o 13 partite, quello che saranno, francamente complicato. Anche vedendo il grado di difficoltà delle partite che ci sono e vedendo appunto gli ultimi risultati della Juventus in aprile. Sarebbe troppo facile ogni volta sapere cosa sarebbe successo senza i punti tolti. Qua proprio una supercazzola, una frase un po' particolare. C'è stato un lavoro quotidiano con la crescita di tutti i calciatori, dice Allegri. Uno può dire che ci siamo compattati, ma magari senza quella penalizzazione avremmo avuto 10 punti in più per un discorso mentale. Quello che infatti i ragazzi sul campo è importante, ma 59 punti non bastano per entrare in Champions e dobbiamo farne altri in queste otto partite. Questa è una frase molto bella, secondo me, perché Allegri qua accarezza i suoi ragazzi, una carezza. Siete stati molto bravi, avete vissuto un momento duro, difficile e nonostante tutto siete stati bravi, siete cresciuti, vi siete compattati. Però magari sì, vi siete compattati per quella roba lì, oppure vi sareste compattati comunque e avreste fatto ancora meglio. E Allegri dice, avete fatto bene, comunque avete fatto bene, ma ricordiamoci che questi 59 punti non sono sufficienti per entrare in Champions. Ci sono altre otto partite, tradotto. non è che quando ci hanno tolto quei punti bisognava fare i punti per cercare di riprendere quella posizione e ora che siamo in quella posizione è tutto fatto perché ce li ha ridati. Uno, perché non sappiamo se ce li lasciano. Due, perché comunque non sono sufficienti 59 punti. È un pezzo, eh. Ragazzi, è un pezzo che siamo qui a dire, aggiungendo 15 punti e andremo a 57, 58, 59. Siano sempre fermi lì da un pezzo. In Serie A non muoviamo la classifica da un po'. La classifica si è mossa tra virgolette con questo annullamento con rinvio che non significa che ce li lasceranno. Quindi bisogna pensare che non si sta facendo il campionato per vincere lo scudetto. D'accordo, si sta facendo il campionato per altri obiettivi, ma quegli obiettivi non sono raggiunti. Quindi fa bene Allegri a sottolineare questa cosa, ad accarezzare i propri calciatori, il proprio gruppo, i propri ragazzi, dicendo sì, d'accordo, ok, però penso che sia giustissimo. E poi qua voglio leggere le testuali parole, poi ne parliamo. Dice non sono preoccupato per Blauvic, anche oggi ha fatto un buon allenamento e l'ho visto sereno. È un percorso di crescita dove ha trovato difficoltà quest'anno, ma Dujan non è diventato scarso tutto in una volta. Devi migliorare come giocatore, come tutti quando giocano. Magari in un altro momento la palla di quadrado va in porta picchiandola di testa. Deve rimanere sereno e tranquillo. Non è lui il responsabile della Juventus. Tutta la squadra è responsabile per la Juventus. Deve rimanere sereno e tranquillo. Tre volte, tre volte in dodici secondi di discorso, quindici secondi di discorso, la parola sereno. Cosa significa? Ora facciamo un po' di dietrologia. perché usare proprio la parola sereno e due volte tranquillo e tre volte sereno? Probabilmente perché sa che in questo momento Vlaovic non è sereno e tranquillo. Vlaovic oggi non è sereno e tranquillo. Perché se no Allegri non avrebbe usato tre volte la parola sereno e due volte la parola tranquillo. Quindi mi è sembrata una sorta di voglio fare in modo che anche Vlaovic ascolti e senta che io lo vedo sereno e che deve rimanere tale. perché adesso è un discorso di testa per Vlaovic. Cioè oggi Vlaovic e Allegri dice una cosa importante non è lui il responsabile della Juve oggi Vlaovic è entrato in un buco nero c'è un cono e lui è proprio in fondo all'interno del buco e lui si sente responsabile della Juventus si sente tutto il peso della Juventus addosso e questo non lo fa stare né sereno né tranquillo. Allegri questa cosa l'ha capita per fare in modo che arrivi alle orecchie di Vlaovic sarebbe meraviglioso vincere contro il Napoli con un gol di Vlaovic o arrivare in finale della Coppa Italia con un gol di Vlaovic o passare il turno in Europa League e arrivare in finale con un gol di Vlaovic meraviglioso ma per arrivare a questo non possiamo limitarci a dire che è un momento in cui gli attaccanti poverini sono sfortunati perché se raccontiamo soltanto un discorso di fortuna beh allora dipende come ci tiriamo su la mattina dal letto nel calcio la fortuna è indispensabile secondo me la fortuna è una componente fondamentale del calcio e apri qui da parentesi della vita perché la fortuna ci deve essere la sfortuna purtroppo è la controparte e ci accompagna nel nostro percorso quotidiano ma non può essere semplicemente questo per fortuna c'è anche il libero arbitrio per fortuna c'è il miglioramento per fortuna c'è il lavoro perché se no semplicemente non lavorerebbero sul campo ci affiderebbero la fortuna quindi oggi Vlaovic non è sereno e tranquillo Allegri lo sa Vlaovic deve capirlo probabilmente lo ha capito pure lui ma non è un pulsante on off se no non esisterebbero gli psicologi perché se tu capisci che una cosa non va fatta non è che allora fai bisogna attraversare dei percorsi e quando viene coinvolta la mente sono percorsi lunghi tortuosi difficili da affrontare quindi dai Dujan aspettiamo tutti il tuo ritorno sicuramente Vlaovic non è diventato scarso come dice Allegri è un giocatore che in questo momento ha delle difficoltà che secondo me vanno oltre le difficoltà del campo siamo tornati ieri pomeriggio alle 4 ora recuperiamo energie per questa meravigliosa partita c'è voglia di arrivare in fondo abbiamo fatto tanto ma non ancora tutto e questo è più importante ora vi dico la verità 40 giorni 45 da qui al termine della stagione dal tifoso sono galvanizzato galvanizzato perché ci possiamo giocare due trofei perché domani c'è un big match perché avrei la possibilità comunque di arrivare secondi in campionato e rispetto agli ultimi due anni di Juventus dove all'ultima giornata arrivi a qualificarti per la Champions l'anno scorso fai un campionato oggettivamente brutto dopo che avevi perso due finali di Coppa contro l'Inter Coppa Italia Supercoppa quest'anno già sei partito male c'è stata un'eliminazione della Champions era diventato gli ultimi due anni erano diventati pesanti e stressanti perché come dicevo prima la Coppa Italia è un contentino l'anno prima compirlo sì avevamo vinto due finali di Coppa Italia Supercoppa l'anno scorso abbiamo detto tutto il tempo non è che se vinci la Coppa Italia salvi la stagione la Coppa Italia è un qualcosa che se la vinci felicissimo se la perdi ti fa rosicare però non può essere la Juventus che parte per vincermi la Coppa Italia bene ora abbiamo comunque due finali a giocarci e per come era iniziata la stagione a livello di campo e vi parlo di quelli che sembravano un susseguirsi di cose tutte negative e poi arriva pure la stangata di discorsi extracampo pensare che nei prossimi 40 giorni qualcosa di bello potrebbe accadere la Juventus mi fa star bene dall'altra parte sono pure molto preoccupato sono molto preoccupato perché so per certo che stiamo parlando comunque di un livello di competitività elevato per quelli che sono gli standard a cui siamo abituati di questa Juventus in questo momento e so per certo che in questo modo il rischio del diciamo figuraccia anche se volevo usare un termine molto più aggressivo della figuraccia è dietro l'angolo non basta arrivati a questo punto della stagione non basta e Allegri ti sta dicendo la stessa cosa non basta per arrivare in Champions abbiamo fatto ancora tanto ma non tutto però queste cose devono per forza passare dall'allenatore l'allenatore è responsabile della gestione di questi momenti della squadra si è detto tante volte nei momenti difficili Allegri bene nei prossimi 40 giorni c'è la necessità ma proprio la necessità che Allegri non mi sbagli niente perché un minimo errore adesso ti proietta in una situazione complicatissima che va completamente poi a rovinare ulteriormente una stagione che non partiva su questi binari con questi presupposti ma può terminare in una sorta di bolla di salvezza però c'è necessità e lo ha detto Allegri ed è giustissimo che lo dica di migliorare di arrivare perché si è fatto tanto non si è fatto tutto è come scrivere un libro meraviglioso per trama e alla fine finisce con ciao buonanotte a tutti senza che ti spieghi chi è l'assassino e dove finisce il protagonista non può esistere una roba del genere bisogna arrivare a un finale che sia bello che sia brutto speriamo bello per arrivare al finale bello però bisogna anche essere onesti con noi stessi e dire che quello che stiamo vedendo a maggior ragione in aprile non è accettabile non è un discorso di voler criticare l'allenatore c'entra assolutamente niente non c'entra assolutamente niente è prima che apriamo questa cosa e prima riusciremo ad analizzare la situazione a 360 gradi perché qua la volontà non è di fare il processo d'allegri qua e là qua la volontà è che la Juventus vinca i trofei e per vincere i trofei serve il campo e il campo oggi ci sta dicendo che la Juventus è poco e da aprile in poi è poco se non pochissimo dai ragazzi dai mister questi ultimi 40-45 giorni a manetta a tavoletta spingere su quell'acceleratore ci siamo riposati 20 giorni d'aprile vendetemi questa balla vendetemi questa balla 23 giorni d'aprile ci siamo riposati ma adesso cazzo se siamo freschi come le rose adesso adesso andiamo vendetemi questa balla fatemi illudetemi di questa cosa da domani andare manca poco manca troppo poco Adrien è cresciuto molto lui ancora a margine di miglioramento in verticale nel tiro da fuori nonostante questo sta facendo una stagione importante e straordinaria questa è la risposta alla domanda come si fa rinnovare oggi Rabiot meraviglioso come proprio risponda Allegri quel cacchio che gli pare a delle domande specifiche con delle risposte mister ma oggi che tempo fa non è carino da parte tua ecco perfetto questo non è stato non è stato minimamente preparato ma è stato perfetto per tempismo ho visto la partita Milan-Napoli Napoli-Milan è stata bellissima con un alto contenuto di livello tat tecnico se hai mangiato il tattico non so perché tecnico il Napoli sta giocando come sempre in campionato domani troveremo una squadra che ha rivalsa dall'eliminazione e per loro la sfida della Juventus è sempre qualcosa di diverso è qua una piccola frecciatina di Allegri che corrisponde comunque assolutamente a verità e ragazzi questo è noi ci vediamo domani con il solito video di riepilogo prima della partita un abbraccio forza Juventus e davvero adesso io lo so che ve lo dico da aprile da inizio aprile perché aprile era un mese tosto ma non ho visto quello che speravo di vedere in aprile ora siamo alla fine di aprile spazio per gli errori non ce n'è più se si sbaglia adesso si è fuori una sorta di di ammonizione siamo ammoniti se veniamo ammoniti ancora poi scatta l'espulsione